Creare, sperimentare, fare arte e cultura non potranno mai essere spenti da un periodo buio come quello dell'emergenza sanitaria che crea distanze e condiziona sotto diversi aspetti molte vite. E' questo lo spirito che unisce il percussionista Giorgio Finestrone e l'arpista slovacco Jakub Rizman, meglio conosciuti come il duo Tankarp. Difatti è durante il lockdown che hanno composto uno dei loro ultimi inediti, che a breve sarà caricato su tutte le piattaforme digitali. Stiamo parlando di Open Up, nato con l'intento di trasmettere un messaggio di libertà. Il sound sarà particolare e rispecchierà quella che è l'inconfondibile caratteristica del duo Ambient, nato nel 2018. Il progetto è formato da due strumenti principali, il Tank Drum, strumento idiofono a percussione, e l'arpa elettrica. Grazie all'aiuto di molti amici musicisti ho conosciuto il mio amico fraterno Jakub Rizman, da dove già dalla prima prova è nato il feeling giusto. Giorgio Finestrone è noto come un batterista e percussionista dal sound pop e jazz, in cui è specializzato. La sua ricerca di nuove sonorità è in perfetto connubio con il modus operandi dell'arpista slovacco Jakub Rizman. Sono diplomato al Conservatorio di Bratislava, da sette anni vivo a Bari, Puglia. I due artisti hanno partecipato a molti festival pugliesi, come il Festival Ecomusiale delle Arti che si è tenuto recentemente nello scorso settembre a Palese. Per conoscere meglio il Tank Art Duet Project basterà visitare l'omonima pagina Facebook o Instagram o cercarli sulle varie piattaforme digitali, dove sarà possibile emozionarsi con i loro brani, tra cui Crazy Giro e Valentine, che parla d'amore e di cui online ha anche un remix composto da Marco Grandolfo.